Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Alessia Marcuzzi diventa protagonista della scena sui social, il tutto grazie alla pubblicazione di uno scatto a Marcord che in Man che non si dica è diventato virale sul web Sono trascorsi molti anni dal momento in cui Alessia Marcuzzi ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, accaparrandosi l'appellativo di sex single già dagli anni 90' quando la conduttrice ha cominciato a farsi spazio davanti le telecamere Ad oggi continua ad essere annoverata come una delle donne più belle in modo indiscusso nel panorama artistico italiano, ma il suo fascino è un qualcosa che l'ha sempre contraddistinta ancora prima che la carriera televisiva arrivasse nella sua vita La conferma di quanto detto, non a caso, arriva da una foto che la stessa Alessia Marcuzzi ha recentemente condiviso nella sua pagina Instagram, la quale ha subito conquistato l'attenzione dei fan e dei media Lo scatto a Marcord di Alessia Marcuzzi.Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell'attenzione del web troviamo nuovamente Alessia Marcuzzi, protagonista della scena nei media e nei social grazie ad una bellissima foto condivisa poche ore fa nella sua pagina Instagram Lo scatto a cui facciamo riferimento, dunque, è stato realizzato negli anni 80' quando Alessia Marcuzzi era una giovane adolescente che si affacciava alla vita in tutta la sua bellezza. Una foto realizzata nel 1988, durante l'estate dei suoi 16 anni e con un fascino già delineato, così come i fan la conoscono oggi Una bellissima foto, quindi, che attesta come Alessia Marcuzzi negli anni non si è mai realmente cambiata se non per il fatto che da giovane donna, oggi, si mostra in veste più matura rispetto un tempo La nuova vita della conduttrice.Nel corso dell'ultimo anno, inoltre, la vita di Alessia Marcuzzi è cambiata radicalmente, super presente suoi social e lanciata nella carriera di imprenditrice grazie anche all'arrivo sul mercato della sua linea beauty luce Dopo l'addio alla televisione, arrivato al culmine di ben oltre 20 anni di collaborazione con Casa Mediaset, una pausa necessaria voluta dalla Marcuzzi in attesa di ritrovare il progetto che le permetta di riappassionarsi davvero e quindi rimettersi in gioco Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video